L'Udinese Ancora una truffa con la tecnica del falso incidente apparenti. Vittima una coppia di anziani coniugi di Lignano. Al momento di consegnare i soldi, i due si accorgono del raggiro e provano a reagire, venendo brutalmente strattonati. Si è aperto con l'udienza preliminare il processo a carico di 13 persone, tra cui 5 del Friuli Venezia Giulia, accusate di vendita fantasma di auto e frode fiscale. 100 milioni l'importo dalla presunta truffa. Analisi critica dei dati Agenas sulla sanità della regione. Nella sede della CGL di Udine si è parlato di sanità privata e pubblica. I professionisti vanno impiegati in organizzazioni che valorizzino le loro competenze. La Camera di Commercio di Udine presenta la proposta di rigenerazione urbana, individuate 6 macro aree di sviluppo dalle infrastrutture alla digitalizzazione. Sono 50 le opere in concorso su un totale di 79 pellicole provenienti dal meglio della produzione cinematografica orientale, in rassegna al Far East Festival, alla 26esima edizione. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con il TG di Udine, che apriamo con un'ampia pagina dedicata all'udinese. Domani una partita determinante, uno spareggio salvezza contro il Verona. Oggi ha parlato Gabriele Cioffi. Intanto c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda il recupero della partita contro la Roma, o meglio, dei 18 minuti che mancano, più il recupero di quella partita eventuale che deciderà l'arbitro della gara udinese-Roma. Perché la Roma ha inviato una lettera alla Lega chiedendo di non favorire il Leverkusen, che sarà l'avversario della semifinale di Europa League dei giallorossi. Fateci giocare a maggio con l'udinese, vedremo cosa deciderà la Lega Calcio. Ma intanto parliamo di Verona-Udinese e con il servizio di Alessandro Surza facciamo il punto dopo le parole di Gabriele Cioffi in conferenza stampa. Una bella partita, un bel contesto, sono partite da giocare, sono partite da vivere con coraggio. Ne siamo consapevoli e così faremo. Bella partita intensa di quelle da giocare con coraggio e determinazione a parole. Cioffi sembra ancora più tranquillo e sereno del solito, ma siamo sicuri che sia consapevole della delicatezza del match. L'udinese non può perdere e anzi vincere varrebbe a doppio, visto che si tratta di uno scontro diretto e gli scontri diretti. Fin qui le zebrette non li hanno mai portati a casa. Di fronte però ci sarà quel Verona che all'andata gelò per ere e compagni con il gol del pareggio, il 3-3 al 97esimo. Un Verona che tra l'altro ha cambiato molto a gennaio, ma che resta assolutamente in corsa per la salvezza. Noi sappiamo che abbiamo un grande rispetto del Verona, squadra che ha valori e che se non riesce a esprimere un calcio giocato è molto brava nel duello, nelle seconde palle. Quindi la nostra partita sarà in relazione alla partita nella partita. Dobbiamo essere bravi a cambiare il partito immediatamente, non perdendo la nostra forza. Per il tecnico bianconero, gara da ex, anche se ciò, fine ai confronti della sua ex squadra, non ha rivincite particolari da prendersi. Ti vorrei parlare di emozioni, ma io credo che da entrambe le parti ci sia stato così poco tempo per affezionarsi che sarà indubbiamente emozionante. Credo che entrambi, società e Dio, abbiamo fatto tante cose buone e tante cose sbagliate. Quindi ci sarà l'emozione di una partita importante. Non c'è pace, come detto, per l'Udinese che perde dopo Tovenia e Lovric per l'infortunio, ancora una volta l'infortunio, una lesione muscolare anche Lautaro Giannetti. Udinese Calcio comunica che Lautaro Giannetti ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane in base all'evoluzione clinica, tradotto altro infortunio serio per l'Udinese che dopo Tovenia e Lovric perde anche l'esperto difensore argentino. Lautaro è un giocatore molto generoso, a metà allenamento ho sentito un affaticamento al quadricipite, ha voluto continuare, ha voluto continuare, ha voluto continuare. E' successo quello, è l'inevitabile, però preferisco avere giocatori così che non mollano mai che avere giocatori che si parcheggiano in infermeria. Probabilmente sarebbe comunque partito dalla panchina, viste le ultime due preferenze per Thomas Christensen, che a sua volta aveva vinto il ballottaggio con Joao Ferreira. Ma è chiaro che per carisma, leadership ed esperienza la perdita di Lautaro Giannetti crea non pochi problemi, visto che oltre al leader argentino mancano come detto anche quello slovene, quello francese, un Udinese quindi che dovrà affidarsi a chi c'è, consapevole che con questa energia e questa grinta si può comunque fare il risultato. E' chiaro che vincere varrebbe doppio, ma l'importante ovviamente è non perdere, perché sì che in quel caso i guai sarebbero complessi. Di conseguenza, come detto, è il danese favorito a giocare insieme a Biola e Perez davanti ad Occoie per una formazione che oltre al ballottaggio tra Christensen e Ferreira ne vede in realtà uno soltanto, quello tra Sarraga e Pagero, con l'argentino che viaggia però verso la seconda titolarità consecutiva. Sarà dunque derby domani contro il Verona, una partita molto più intensa rispetto al passato, perché vale davvero tanto per entrambe le squadre. Verona che ha cambiato molto nel corso della stagione ed è tuttavia ancora in corsa per la permanenza in Serie A. Per l'Udinese sarebbe molto importante fare risultato. Le stagioni cambiano in un batter d'occhio oppure per evidenti segnali del destino non riescono a svoltare. Chissà come sarebbe andata l'annata dell'Udinese se cinque mesi fa non avesse subito questo gol al 97esimo da Thomas Henry, se Lovric non avesse cestinato l'ultimo possesso bianconero regalando di fatto l'ultimo pallone fatale al Verona. Quel 3-3 ha sgretolato probabilmente le comunque poche certezze dei friulani che già un paio di settimane prima erano stati beffati dall'Atalanta e che un paio di settimane dopo sarebbero stati beffati pure dalla Sassuolo. Come sarebbe cambiata? La stagione dell'Udinese è banalmente senza quel paleggio nel derby d'andata. Per Aere e compagni avrebbero due punti in più, la squadra di Barone uno in meno. E probabilmente per come si sono messe le cose ora, questi punti farebbero tutta la differenza del mondo. E a proposito di punti, gli scaligeri dopo un avvio complicato di campionato hanno cambiato modulo proprio a ridosso della sfida d'andata quando il tecnico dei giallo-blu sembrava fosse già sicuro dell'esonero. Via al 3-4-2-1 e spazio al 4-2-3-1 senza niente da perdere con il rilancio di Folorunch, la scoperta di Suslov e la rinascita di Lazovic. Da quel momento il Verona è rinato, togliendosi anche dalle ultime tre posizioni della classifica nelle ultime settimane. Assurdo se si pensa alla rivoluzione fatta nel mercato di gennaio quando se ne sono andati i vari Ngong e Terracciano, Faroni, Ien, Djuric, Doig e compagnia per far spazio ai vari Noslin, Sviderti, Sentons. Eppure analizzando la classifica, proprio nel giro di ritorno Lellas ha collezionato 14 punti e sarebbe serenamente salvo finisse ora. L'Udinese nello stesso arco di tempo ne ha ottenuti 11, c'è giusto giusto una distanza di 3 punticini da colmare. E adesso la cronaca, ancora una truffa a danno di anziani a Lignano. Le vittime si sono viste raggiungere da una telefonata che annunciava l'ormai solito incidente ad un parente con richiesta di soldi. Dal momento di consegnare i 10.000 euro in contanti richiesti si accorgono del raggiro, provano a reagire, vengono strattonati e finiscono in ospedale. 10.000 euro per evitare, sostiene, il carcere al loro figlio coinvolto in un presunto incidente stradale. A chiedergli con voce ferma, al telefono, questo giovedì mattina, snocciolando qualche informazione credibile, un uomo. La coppia di pensionati si preoccupa, comprensibilmente la priorità è tutelare il figlio. Poco dopo fuori della loro casa, nel territorio comunale di Lignano-Sabbiadoro, in via Villaggio Europa, si presenta una persona che si qualifica come carabiniere. Forse la stessa che ha fatto la telefonata o forse, più probabile, un complice. I due coniugi fanno entrare l'uomo che non indossa la divisa. Hanno già preparato una busta con importo richiesto, solo che nello scambio di battute con il sedicente carabiniere qualcosa non torna. Marito e moglie, 90 anni compiuti lui, alcuni meno lei, iniziano a insospettirsi e alla fine si rifiutano di consegnare il prezioso involucro. A quel punto, riferisce il comando provinciale dei carabinieri, l'uomo agisce fisicamente, spintone i due anziani che cadono a terra, arraffa la busta e scappa via con i 10.000 euro. La truffa, con l'uso di violenza, diventa così rapina. I due coniugi riportano diverse lesioni, successivamente soccorsi, per uno si parla di sette giorni di prognosi, per l'altro di 15. E su questo tema oggi ha parlato l'ANAP di Conf Artigianato, con il suo Presidente Pierino Chiandussi, che ha voluto affrontare il tema delle truffe agli anziani. Il 50% va a buon fine, ma soltanto il 47% delle persone denuncia. Serve un supporto. Vediamo. Il 50% delle truffe agli anziani va a buon fine, solo il 47% dei truffati sporge e denuncia la Polizia. Sono le percentuali poco incoraggianti che ANAP, l'Associazione degli Artigiani in Pensione, ha elaborato attraverso un'indagine che a livello nazionale ha coinvolto 9.800 cittadini over 65 anni. Un'analisi che si inserisce nella prosecuzione della campagna Più Sicuri Insieme, che è stata lanciata anche in Friuli Venezia Giulia l'anno scorso e realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Interno, il contributo di Polizia, Carabinieri e della Guardia di Finanza. Quello che anche la Polizia e le Forze dell'Ordine dicono è che bisogna ricreare un vicinato, perché la Polizia da sola con i mezzi che ha e con le persone che ha non può arrivare dappertutto. Però se c'è un vicinato vivo e che comunque abbia a cuore anche l'appartenenza di questo vicinato tra persone anziane o meno, questo deve ricreare comunque un qualcosa di utile. Per quanto riguarda poi le denunce che vengono fatte comunque con una minore frequenza dei reati che vengono comunque subiti dagli anziani, è un fatto anche di una grande burocrazia. L'anziano sapete benissimo che non può recarsi in un commissariato, in una caserma e carabinieri e avere tutto questo tempo per poter formalmente fare una procedura. Sicuramente come le Forze dell'Ordine chiedono sarebbe più giusto che venga fatto un decreto, una legge a livello nazionale dove l'anziano per fare una denuncia venga agevolato addirittura non andando lui in caserma, ma che ci siano strumenti che possano andare a casa dell'anziano e le denunce aumenterebbero sicure e troveremo un modo in più per fermare questa veramente vergognosa situazione. E' iniziato con l'udienza preliminare il processo a carico di 13 imputati accusati di frode fiscali e truffa nella vendita di automobili. E' iniziato con l'udienza preliminare il processo a carico di una banda di presunti truffatori, 13 in tutto imputati per il reato di associazione a delinquere finalizzata a reati fiscali, truffa e falso nella vendita di automobili. L'udienza si è svolta nell'aula dove di solito si riunisce il tribunale in seduta collegiale per la presenza di numerosi avvocati e di alcune delle vittime. Il principale imputato è un 47enne di Pordenone, con lui altre 5 persone residenti in flui di Venezia Giulia, un altro di Pordenone, due di Codroipo, uno di Savogna di Isonzo ed uno di Udine. Tutti gli altri sono residenti nel Lazio. Secondo quanto sostiene l'accusa rappresentata dal procuratore aggiunto di Udine Claudia Danelon, l'attività illecita della banda puntava all'evasione dell'IVA attraverso tre società e alla truffa consistente nella mancata consegna delle auto nonostante i contratti di acquisto. Secondo la procura, sulle auto usate in vendita venivano anche ridotti i chilometri percorsi, manomettendo la strumentazione di bordo. Il giudice Roberta Paviotti ha rinviato l'udienza al 30 maggio, accogliendo la richiesta dell'avvocato Cescutti, che difende il principale imputato, di disporre del tempo necessario per verificare la regolarità delle istanze di costituzione di parte civile presentate dagli avvocati delle vittime. Adesso andiamo a Tavagnacco, dove una rapina messa a segno da malviventi ha fruttato ben 4.000 euro. E ancora una volta a cadere nella trappola un anziano. La banda delle truffe colpisce ancora. Giovedì 18 aprile a Tavagnacco, per la precisione a Branco, in via Gorizia, nel tardo pomeriggio, un pensionato di 88 anni è stato contattato telefonicamente da un malvivente che si è finto un carabiniere. Il truffatore, con la scusa del finto incidente provocato dal congiunto e con il rischio che questo finisca in galera, è riuscito a convincere l'anziano a preparare i soldi, 4.000 euro in contanti, da consegnare a un collega in arrivo presso la sua abitazione. Poco dopo un complice si è presentato alla porta, l'anziano aperto tenendo il denaro sotto braccio. Il malvivente l'ha strattonato facendolo cadere a terra ed è riuscito a portare via tutto il denaro contante. Prima di scappare ha strappato anche il filo del telefono di casa, così da impedire alla sua vittima di chiedere aiuto. Solo dopo è riuscito ad allertare i soccorsi con l'intervento dei carabinieri del radiomobile di Udine, dove a sporto denuncia. Chiaramente dei malviventi nessuna traccia, è l'unica speranza che qualche telecamera di videosorveglianza posta nei paraggi dell'area del furto abbia immortalato le immagini, utili per risalire agli autori. Due giovani italiani sono stati arrestati per resistenza pubblico ufficiale, avvenuto davanti all'hotel Ramandolo, dove il banconista del bar si era rifiutato di dare loro delle bevande alcoliche, erano già in condizioni abbastanza precarie. Mattinata movimentata, martedì 16 aprile in via Forni di Sotto, dove gli agenti di polizia sono dovuti intervenire per una segnalazione di due giovani di 21 e 23 anni che molestavano il gestore e i clienti dell'hotel Ramandolo. Tutto sarebbe nato dal rifiuto da parte dell'addetto al bancone del bar di servire altre bevande alcoliche ai due, che già erano in condizioni alterate per aver alzato troppo il gomito. La segnalazione è arrivata immediatamente alla polizia, che ha inviato sul posto due volanti. Alla vista degli agenti, uno dei ragazzi, Alticci, ha iniziato ad inveire pesantemente contro di loro. Nonostante i tentativi di riportare la calma, chiedendo al riottoso di interrompere il disturbo, il diverbio è sfociato quasi in scontro fisico. Gli agenti, presi di mira dalle invettive, si sono trovati faccia a faccia con l'esagitato e sono stati costretti ad immobilizzarlo per evitare conseguenze più gravi. A quel punto è entrato in scena anche il secondo giovane, che nel tentativo di frapporsi tra gli agenti e il suo amico, iniziava anche lui a minacciare le forze dell'ordine, continuando a farlo fino all'arrivo negli uffici della squadra volante. Per i due è scattato l'arresto per il reato di resistenza pubblico ufficiale, una denuncia a piede libero per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e la contestazione amministrativa di ubriachezza molesta. Entrambi, già note alle forze dell'ordine, il giorno seguente si sono presentati in tribunale, dove il giudice ha convalidato l'arresto risponendo poi la libertà in attesa di giudizio. Un traffico di esseri umani dalla Turchia dopo il terremoto del 2023, finito in sequestro a scopo di estorsione, violenza sessuale e favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Con queste accuse sono stati arrestati due stranieri, un afghano e un pakistano, mentre una donna di nazionalità albanese risulta latitante. A subire la violenza sessuale, una ragazza di 17 anni di origine siriana, finita con la sua famiglia nella rete dei trafficanti. Una volta in Italia, i malviventi avevano separato gli uomini dalle donne, abbandonando metà degli ostaggi in autostrada vicino ad Udine. Rintracciata la ragazza all'Odi, sono scattate le indagini che hanno portato all'identificazione dei due stranieri che sono stati arrestati, uno in Croazia ed un altro durante un controllo da parte della polizia di Modena. Paluzza ha avuto luogo a Paluzza oggi la cerimonia di intitolazione della caserma, sede della locale stazione Carabinieri, all'appuntato scelto Giuseppe Nieddu, decorato di medaglia d'oro al valore civile alla memoria. La cerimonia commemorativa a cui hanno presenziato il comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, i figli del decorato, il comandante generale di Corpo d'Armata Luigi Federici, il vicepresidente del Consiglio regionale della nostra regione Stefano Mazzolini, l'assessore Barbara Zilli e l'onorevole Maura Manuela Dicenta, insieme al prefetto di Udine Domenico Lione e ai sindaci dei comuni di Paluzza, Cercivento, Sutrio e Treppo Ligosullo, con il comandante della legione Carabinieri, generale Francesco Azzeni. Ha avuto inizio con la resa degli onori al comandante interregionale Vittorio Veneto, da parte di un picchetto di armi. Poi sono arrivati i gonfaloni dei comuni, su cui il comando stazione ha competenza territoriale, i medaglieri e i labari delle associazioni combattentistiche e d'arma, a cui è seguito l'alza bandiera. È un momento di raccoglimento, un ricordo dei caduti e la lettura della preghiera del carabiniere. Parliamo adesso di sanità. In Friuli, Venezia, Giulia, la sanità pubblica è sempre più in difficoltà. Il privato attrae sempre più medici e a rimetterci, come sempre, sono i cittadini. L'emergenza sanitaria in Friuli, Venezia, Giulia, sta toccando picchi mai raggiunti. Sempre meno personale negli ospedali, sempre più medici che si rifugiano nel privato e sempre più costi per i cittadini che sono costretti proprio a rivolgersi al privato a causa delle estenuanti attese nel settore pubblico. Il momento più difficile è soprattutto quello per le persone, per i cittadini, costretti a pagare di tasca propria le prestazioni diagnostiche, le visite mediche e quant'altro, costretti a fare lunghe liste di attesa nei pronto soccorso. Noi crediamo che siamo arrivati ad una situazione limite, veramente, per quanto riguarda un'organizzazione dei servizi che sta veramente segnando il passo. Bisogna assolutamente cambiare direzione di marcia e fare in modo che il personale dagli ospedali non vada via ma continui a lavorare nella sanità pubblica. Ma come si può provare a muoversi concretamente per risolvere la situazione? Ascoltando chi lavora ogni giorno. Noi crediamo che quando tu chiedi ad un professionista, che sia medico, infermiere, OSS, che migliorie sono da fare presso il proprio luogo di lavoro, è ben contento di dartele. È chiaro che il personale deve essere ascoltato, non deve avere paura di ripercussioni disciplinari se parla e se dice la propria opinione, perché chi parla dei lavoratori della sanità lo fa per migliorare il proprio luogo di lavoro. Ascoltare dunque, ma puoi anche agire. È questo l'appello lanciato con l'invito anche a manifestare pretendendo i propri diritti alle cure. E poi c'è la questione delle urgenze. Il privato può essere comodo, ma questi casi non li tratta. Il privato può integrarsi col pubblico, ma prima di tutto il privato non fa l'urgenza. Nel senso che l'urgenza è troppo costosa per il privato, perché vuol dire lasciare operatori in attesa delle persone da soccorrere. Quindi questa è la cosa fondamentale. Sguarnire il pubblico, affidare solo al privato, rischerebbe di compromettere prima di tutto l'urgenza. Una notizia di cronaca aggiunta in questo momento in redazione alla stazione di Udine del Soccorso Alpino è intervenuta nel pomeriggio fra le 15 e le 16 assieme alla Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco per portare soccorso ad un ciclista di nazionalità austriaca di 37 anni di Graz che è caduto procurandosi la lustrazione di una spalla. L'uomo era assieme ad altri sei compagni quando è caduto con la sua mountain bike e si trovava sul sentiero 713 che conduce verso il Monte Quarnan. È stato raggiunto dai soccorritori accompagnato fino all'ambulanza per essere condotto poi all'ospedale di Tolmezzo. Incontro in Camera di Commercio ad Udine tra gli associati della Confcommercio per discutere e chiarire le norme legate alla ZTL ma anche per presentare i progetti di rigenerazione urbana. È cominciata nella sala valduga della Camera di Commercio Pordenone-Udine la disfida tra commercianti, presenti solo gli associati della Confcommercio e istituzioni udinesi sul nodo ZTL legata alle limitazioni e parcheggi scarsi che hanno messo in crisi il commercio nel centro di Udine. Prima dell'avvio dei lavori è stata una breve ma intensa contestazione da parte di quei commercianti non legati a Confcommercio che volevano partecipare, invitati a stare fuori da parte degli addetti. Poi dopo una piccola mediazione una delegazione è stata fatta salire ma solo per ascoltare. Le tematiche dell'incontro sono chiare, le modifiche al nuovo disciplinare tecnico per la circolazione e la sosta in ZTL era pedonale, le novità annunciate dal Comune di Udine e il regolamento comunale per l'arredo urbano, le proposte di modifica al regolamento di polizia urbana sulla diffusione della musica, argomenti caldi all'ordine del giorno alla presenza come ospiti del vice sindaco Alessandro Venanzi e dell'assessore alla viabilità Ivano Marchiolo. Per il Presidente della Camera di Commercio ma nel contesto anche vice nazionale Presidente Provinciale di Commercio Giovanni D'Apozzo, si tratta di un'opportunità per un confronto costruttivo con l'amministrazione comunale su questioni aperte che interessano la categoria. Una cosa è certa, le polemiche non si placheranno, anzi la sensazione è che le stesse le vieteranno per la forte divisione in chiave politica tra le parti in campo. Si avvicina la 26esima edizione del Far East Film Festival con esso anche la terza edizione di Udine Cocktail Week per andare a scoprire altri segreti della cultura orientale. È tutto pronto per la 26esima edizione del Far East Film Festival che da mercoledì 24 aprile a giovedì 2 maggio chiamerà raccolte grandi appassionati di cinema orientale per la manifestazione che trasforma Udine nella capitale della settima arte. Ma non solo il Far East perché per il terzo anno consecutivo gli appassionati della cultura orientale potranno godere anche dell'Udine Cocktail Week evento andato in scena con la prima edizione nel 2022 e che dall'anno scorso si lega al Far East visto che anche le date della manifestazione sono simili dal 25 aprile al 2 maggio. Udine Cocktail Week ha lo scopo di rendere la città friulana un salotto dove poter conoscere nuove ricette di stampo asiatico attraverso degustazioni, masterclass e conferenze come quella conclusiva del 2 maggio dove si affronterà il tema degli insetti commestibili. Porteremo una serie di degustazioni masterclass e guest ovvero sia dei barman di fama internazionale che saranno ospiti nei migliori cocktail bar e anche in alcuni ristoranti della nostra città. Abbiamo nomi di spicco molto famosi quali Giancarlo Mancino, Luca Picchi, Cristina Nonino, Samuele Ambrosi. Cocktail di stampo asiatico saranno anche partecipi e protagonisti di tutti gli altri eventi dove i barman di fama internazionale guideranno delle degustazioni e delle masterclass pomeridiane durante le quali ci saranno degli assaggi comunque e la sera questi barman saranno presenti dietro al banco dei locali per poter appunto miscelare dei cocktail di stampo asiatico. Tornando invece all'Afarist Film Festival, anche quest'anno a Udine arriveranno pellicole che sono pronte a fare emozionare tutti gli appassionati. Sì, siamo prontissimi perché inauguriamo proprio mercoledì con due film diretti da due donne. La prima è una donna regista che è anche una comedian, un'attrice comica che questa volta passa dietro alla macchina da presa. Il film è YOLO e vi assicuro è un film assolutamente da non perdere. Il secondo invece arriva dalla Corea del Sud. Il cinema coreano, devo dire che comunque è una delle grandi sorprese anche quest'anno. Avremo tantissimi ospiti che arrivano dalla Corea. Avremo i due film che recentemente hanno superato i 10 milioni di spettatori. Vi aspettiamo tutti. I giovani vengano all'adunata e seguono le nostre attività perché c'è bisogno di spirito e valori alpine. L'appello che i vertici dell'ANA sezione di Udine hanno lanciato nei nostri studi durante Friuli in diretta. Ieri a Vicenza è stata una bella giornata in cui il nostro Presidente nazionale e tutte le autorità presenti hanno presentato questa nuova edizione, la 95esima, che segue la nostra mitica del 94esima e pertanto auguro a tutta la città di Vicenza ma a tutto il movimento alpino tutte le belle cose che un adunato porta e noi ne abbiamo ormai appena passata una e ancora è tutto nella nostra memoria. È stato un po' emozionante passare il testimone? Certo, assolutamente sì, perché nel momento in cui si passa il testimone è la fine di una grandissima festa. Però diciamo che Vicenza potrà avere sicuramente un 400.000 alpini. Quindi la sezione di Udine è pronta abbiamo fatto quattro pullman che sono rigorosamente già tutti pieni poi ci sono chi alloggia in albergo i B&B e via dicendo e tanti alpini partono la domenica mattina prendono il frecciarossa e in due ore e mezza arrivano a Vicenza quindi arrivano, fanno la sfilata, fanno la giornata poi la sera rientrano in città. L'appello è quello che dicevo prima stateci vicini se potete mandate i vostri giovani se i giovani ministri ci stanno seguendo in questo momento accettate il nostro invito se poi la ex Naya, chiamiamola noi diventasse un invito ai ragazzi a partecipare a un periodo di convenienza civile l'importante è che loro capiscano cosa significa stare assieme cosa significa un ordine e soprattutto obbedire a un certo ordine cosa che al giorno d'oggi vedo molto difficile E in corso a Milano il Salone del Mobile appuntamento fondamentale anche per il settore legno arredo della nostra regione Al Salone di Milano l'appuntamento più importante a livello internazionale per il settore legno arredo la nostra regione si è presentata con un ruolo da protagonista 4,9 miliardi di euro di fatturato terza in Italia prima se il dato viene rapportato al numero di abitanti L'unica cosa che è importante è ricordarci di essere orgogliosi orgogliosi del nostro sistema foresta legno arredo regionale perché quello che dicevi siamo sì la terza regione in Italia a un valore assoluto ma in proporzione al numero di abitanti siamo i primi perché le altre sono Lombardia e Veneto noi siamo un milione e due di là sono milioni Cosa siamo più bravi secondo te? Noi non lo so se siamo più bravi rispetto di bravura ma quello che c'è è la forza delle connessioni che in un territorio così piccolo hanno creato delle filiere molto stabili è importante non perderle 1700 aziende circa 20.000 occupati in Friuli Venezia Giulia nel legno arredo con Pordenone seconda provincia italiana per esportazioni nel settore Udine settima molte di queste aziende friulane sono a Milano in questi giorni tra Salone una cinquantina e le centinaia di eventi e showroom del Fuori Salone un movimento che si fa apprezzare per qualità e per capacità di fare rete Posso dire che ho sentito tante aziende via Whatsapp contente nella consapevolezza che hanno visto gente che non conoscevano perché il rischio è sempre di vedere sempre quelli invece mi hanno detto guarda che veramente c'è l'Asia chiaramente poi si finalizza nel tempo però hanno detto guarda ho visto questo movimento vero però ecco la sfida che abbiamo con Friuli Venezia Giulia è essere noi ad andare nei mercati un ottimo lavoro sta facendo la regione in America con l'attazione di investimenti altrettanto noi vogliamo essere a fianco del sistema regionale a portare noi il nostro Made in Italy regionale penso l'America e penso il Medio Oriente in particolare queste due aree per noi sono strategiche oltre all'Europa chiaramente e adesso andiamo a parlare invece della festa degli asparagi che partirà a Tavagnacco dal 27 aprile e si terrà fino al 12 maggio ultimo weekend di aprile primi due fine settimana di maggio il parco comunale di Via Tolmezzo a Tavagnacco ospiterà la tradizionale e attesissima festa degli asparagi manifestazione ormai giunta alla sua 86esima edizione la qualità dell'ospitalità e dell'offerta culturale ed enogastronomica della festa nonché le sue indubbie potenzialità nel promuovere uno dei prodotti tipici dell'agricoltura locale sono ormai una piacevole e costante apprezzata in particolare dai numerosi visitatori che ogni anno prendono parte alla manifestazione Sì, siamo pronti l'inaugurazione è prevista per il 27 aprile il programma si estende per tre fine settimana compreso anche il primo maggio siamo pronti i fornelli sono quasi accesi e vi aspettiamo numerosi speriamo che il tempo sia giusto e che le temperature aumentino Ed è arrivata la notizia ufficiale della fissazione della data del recupero dei 18 minuti che mancano per completare Udinese-Roma perché la Lega nonostante la richiesta del club giallorosso di spostare a maggio questa ospezione di partita per non favorire il Leverkusen avversario di semifinale dell'Europa League dei giallorossi la Lega ha fissato la partita per giovedì 25 aprile e dunque si giocherà quel giorno la prossima settimana la restante parte di gara che resta da disputare per arrivare al novantesimo più eventuale recupero e chiudere il match è tutto da parte mia vi ringrazio per averci seguito buon proseguimento di serata con TV12 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti